Aggressione in pieno centro di Battipaglia nella serata di mercoledì. Vittima del raid un 26enne che si trovava nei pressi di un bar in Via Pastore quando è stato aggredito da un uomo che lo ha colpito con calci e pugni. Immediato l'arrivo sul posto degli agenti del commissariato della Polizia di Stato di Battipaglia e degli operatori del soccorso che hanno trasportato il ferito presso l'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia. La polizia si è messa sulle tracce dell'aggressore, fuggito in pochi minuti, cercando anche di ricostruire il movente di tale gesto. Ad aiutare gli inquirenti potrebbero essere i filmati degli impianti di videosorveglianza collocati nei pressi.